Questa settimana ci troviamo qui a Bruxelles come rappresentanti delle città al Comitato Europeo delle Regioni. Io sono sindaco di Casal Pusterlengo in provincia di Lodi e siamo qui per rappresentare le istanze dei comuni, delle regioni e delle città all'interno delle istituzioni europee. Questa settimana durante i dibattiti abbiamo affrontato diversi temi attuali che accomunano tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Uno su tutti il problema della crisi energetica. Le nostre città, i nostri territori sono messi a dura prova a causa di questa crisi energetica, a causa di questo aumento dei prezzi. I nostri bilanci insieme alle nostre famiglie, insieme alle nostre imprese rischiano veramente di andare in difficoltà per cui abbiamo fatto ancora una volta appello alle istituzioni europee e ai governi degli stati membri per trovare delle soluzioni a stretto giro perché se no sarà troppo tardi.